Ciao a tutti e buona domenica. Allora, ieri ci sono state diverse live, anche abbastanza interessanti. C'è stata la live consueta, serale, di Davide, con cui ha intrattenuto i suoi utenti guardando Sanremo, ma questa cosa la saltiamo tranquillamente, e ci concentreremo sulle live di Chiara e di Faith. Chiara ha aperto una live dal titolo Topolino e Canarino, vergognatevi, e in contemporanea Faith aveva aperto un'altra live, dove faceva ascoltare praticamente dei pezzi della live di Chiara e le commentava. Questa live è stata privatizzata per la questione del copyright, cioè perché sicuramente Chiara avrebbe segnalato il video per copyright. E quindi poi ne ha riaperto un'altra dal titolo Siamo agli scarti di Chiara d'Alessandro. Ma veniamo alla live di Chiara. Ce la troviamo seduta sul divano, tutta impigiamata, con la felpa, con i fiocchetti rosa, incipollata e con gli occhiali anch'essi rosa. Io non so se è questa cosa per rendere ancora più autorevole, diciamo la live, il fatto degli occhiali, o per, diciamo, far dare al sua persona ancora più credibilità. Questo non lo sappiamo, ma comunque va agli occhiali. E ci chiede perché ho messo questo titolo? Perché queste due persone, dice lei, si devono vergognare. Perché Canarino ha fatto una live dove ha fatto intendere, mostrando un portafogli e dei soldi, praticamente, che lui questi soldi per la denuncia li ha e quindi non gli interessa, diciamo, spenderli. Io questa live non l'ho vista perché non so su quale canale andare a cercarlo, ma da quello che ho capito, dalle parole di Chiara, penso che le abbia comunque poi privatizzato. Lei che cosa ha detto? Lei ha detto che se lui ha i soldi e quindi si vuole fare il di più e mostrare un portafoglio di Louis Vuitton, assicurati che questo portafoglio non sia un fake, perché pare che il monogramma presente su questo portafoglio non fosse quello originale, appunto, di questo brand. Allora, io vorrei far notare a Chiara che non è tanto importante il portafoglio, ma quanto quello che c'è dentro. E lei contesta anche questo perché dice che non è che c'erano tutti questi soldi, c'erano più o meno 280 euro. Non è che uno si porta tutto il carico nel portafoglio, ma comunque. E vorrei anche dire a Chiara che lei, l'unica cosa di Louis Vuitton, che ha sono un paio di scarpe comprate tra parentesi con dei soldi prestati. Quindi, voglio dire, dovrebbe essere lei stessa la prima a comprendere che non è tanto la marca che fa la persona. Comunque, dice che mostrare questi soldi è stata una cosa squallida, perché, insomma, ci sono delle persone, insomma, che potevano sentirsi un po' umiliate nel mostrare questi soldi. Un po' come quando lei mostra le cose che acquista, insomma, che spende 2-3 mila euro in un mese per comprare della pacottiglia, allora tutti quelli che la seguono dovrebbero sentirsi umiliati. Ma il problema a lei, quando queste cose appunto vengono dal suo canale, non se le pone. Si pone il problema quando le cose vengono da altre persone, queste cose vengono fatte da altre persone. L'attacca anche sull'aspetto, dice che non doveva mostrarsi come un bagnino o un parcheggiatore abusivo, quelli vestiti male e brutti. Io volevo ricordare a Chiara che, per quanto riguarda vestiti male e brutti, si guardasse un attimino a fianco e guardasse come il marito va in live alle volte, soprattutto d'estate. E poi riparleremo anche del fatto dei bagnini o dei parcheggiatori abusivi e sporchi. Comunque, dice che in questa chat c'era Topolino moderatore e lei dice, io non so se sono amici, fidanzati, butta anche lì, diciamo, questa storia dell'essere o non essere omosessuali. Dice che a lei questo non interessa e praticamente pone l'accento sul fatto che Marco ci teneva a farle sapere che sarebbe venuto in Italia per farle questa denuncia, querela, insomma, e che anche Topolino avrebbe provveduto. Ma ricorda che questa cosa, insomma, era inutile fargliela sapere perché l'aveva già fatta sapere Faith. Con questo video lei cosa vuole dimostrare? Dice che vuole dimostrare di non avere paura. Dice che lei non stava più parlando di loro fino, insomma, a che non ha visto il video parodia e allora si è arrabbiata. Cosa dice ancora? Che a queste persone, soprattutto a Topolino, a quanto pare, mancavano le sue attenzioni. Che le hanno ricordato un po' Lorena, ancora questa Lorena in mezzo, Porella, che cerca in tutti i modi di attirare ancora le sue attenzioni. Perché queste persone che sono state scartate, perché lei dice sempre così da lei, non vivono più se non hanno le sue attenzioni, praticamente. Quindi, non lo so, devono soffrire di qualche patologia importante queste persone. Lorena, appunto, che cerca di attirare la sua attenzione in tutti i modi, però non ci riesce. Parla ancora del video parodia di Marco e Dennis, spiegandolo, insomma, alla sua utenza. E dice, sottolinea, che se Dennis non avesse messo in mezzo Faith, tante cose di Dennis non sarebbero uscite fuori. Non avrebbe, ad esempio, nessuno avrebbe saputo della molestia che teoricamente le ha fatto Dennis, perché lei le stava dando, gli stava dando del lungo. E i rapporti stavano scemando. Dice che le persone che si attaccano al fatto che lei aveva invitato Dennis al compleanno di Davide, non si rendono conto che lei comunque non l'avrebbe mai fatto venire questo compleanno. Io penso, soprattutto per risparmiare a Davide l'emozione troppo forte, appunto, di avere invitati al suo compleanno, che non fossero la moglie e la suocera. Dice che aveva usato l'invito per sondare il terreno e per vedere, insomma, di carpire informazioni se fosse stato lui a dire le cose a Faith. Praticamente come ha sempre fatto, nel senso, lei si finge amica di qualcuno soltanto per carpire informazioni, da usare poi a suo piacimento. Dice che YouTube è il suo posto di lavoro e che se Dennis, che Dennis praticamente si è permesso di diffamarla sul suo posto di lavoro e di farlo odiare ancora di più di quello che già è. A questo punto lei ammette che lo ha, diciamo, minacciato di rovinarlo, diciamo, nel suo posto di lavoro, però l'avrebbe fatto legalmente. Anche il fatto di chiamare sua madre, certo, lei dice l'ho fatto, però, cioè, l'ho detto questa cosa di chiamare la madre, però sicuramente non l'ho fatto perché non sono una persona di merda, scusate l'espressione, ma lei dice così, e perché non voleva dare a quella donna insomma il dispiacere di aver cresciuto un selvaggio. Dice proprio così. Afferma che lei non ha paura perché la verità non ha paura di niente. Dice, riafferma che lei non ha fatto nulla né a Dennis né a Marco, ma è che è stato Dennis a divulgare delle loro cose private facendo uscire anche il fatto che il marito è un violento. Dice che lei non deve dei soldi a nessuno, nemmeno alla Caritas, e che questa cosa l'ha messa in giro la Dama Nera e che quindi lascia il tempo che trova. Cioè, il fatto che lei debba dei soldi alla Caritas l'ha detto la Dama Nera, ma non è vero perché questa cosa l'aveva detta in un video Giuseppe, quindi non è colpa della Dama Nera. Quanto meno la Dama Nera ha riportato delle cose che ha sentito uscire dalla bocca di Giuseppe che al tempo, al tempo della Caritas, al tempo della Casa Popolare era lì, quindi determinate cose dovrebbe pur saperle. Spiega che anche la bolletta di 700 euro che praticamente dell'elettricità di Dennis che qualcuno afferma sia il risultato del loro abusare dell'aria condizionata a casa di Dennis dice che non è vero perché Dennis le aveva mostrato questa bolletta e loro non c'entrano perché praticamente Dennis aveva fatto una riduzione, insomma qualcosa che poi gli è venuta addebitata appunto su questa bolletta. Dice che queste cose che praticamente sono state messe in giro non hanno fatta odiare ancora di più e lei non capisce il motivo di tutto questo odio. Sarà forse per una bugia che ha detto e che poi lei stessa ha smentito? Sì, Chiara, proprio una bugia che hai detto. Parlando dei video o delle discussioni e quant'altro fatte con Dennis e registrate dice che tante cose le erano sfuggite ma che lei ha provveduto praticamente a mettere tutto nel PC perché non si sa mai che magari possa aver fatto una riserva di denuncia lasciando appunto intendere che potrebbe denunciare sia penalmente che civilmente. Dice a Marco di non emusinare la sua attenzione perché non l'avrà mai. Ricorda a Marco che lui ha detto che nella sua famiglia c'erano avvocati e magistrate che questo può essere una cosa anche non legale. Parla anche della questione coniata fra virgolette nel senso lei dice che appunto la coniata parlava messo un post non si capisce bene su Chiara Dito Medio praticamente che è un canale che tuttora esiste Chiara ha parlato appunto con la coniata di questo post e la coniata le aveva detto che l'avrebbe rimosso però passano i giorni questo post non viene rimosso lei telefona alla coniata che a un certo punto comincia a non risponderle e lei dice e lei pensa madonna che stronza nel frattempo che succedeva tutto questo Dennis comunque era con loro quindi assiste alle telefonate insomma tutto quanto e alla fine lei la blocca cioè blocca la coniata che poi le scrive un messaggio chiedendole scusa praticamente poi lei la sblocca insomma è tutto questo quello che è accaduto niente di più parla anche del fatto che lei ha divulgato che lavoro fa Dennis però dice che questo non è reato cioè praticamente dice lei cioè sa lei cosa è reato e cosa non lo è ciò che fa lei non è reato ciò che fanno gli altri sì e infatti dice che ciò che dice che ha detto Dennis che il marito prende le goccine le molestie e tutto quello che ha detto Dennis sono reati insomma sono cose gravi che loro non l'hanno denunciato praticamente quando che non hanno denunciato Dennis quando è successo il fatto della molestia perché gli volevano bene gli avevano detto soltanto che non erano compatibili e in poche parole poi mandandolo a quel paese dandogli del lungo dice che lei ha cominciato a registrare le conversazioni con Dennis perché avvertiva in lui la sindrome dell'infame questo è una nuova sindrome praticamente inventata da lei sarebbe bello sapere se questa sindrome lei l'avvertiva prima o dopo insomma che Dennis gli prestava i soldi comunque dice che non ha messo mai in pratica le minacce contro Dennis perché a differenza di altri lei ha una coscienza e l'empatia a questo punto afferma di essere una vittima anche se dice che lei non fa la vittima e dice questa frase io sono semplicemente me imperfetta nella mia perfetta imperfezione ok dice ancora una volta che Marco butta via i soldi diffidandola perché comunque lei non parlerebbe più di lui si chiede come mai Dennis non l'abbia denunciata prima dice che lui è un bugiardo patologico perché lei aveva detto che lui sa piangere a comando e questa cosa mi ricorda un po' qualcuna però insomma andiamo avanti lei dice che non è fragile e per questo non ha fatto una scena madre del tipo lasciatemi in pace perché lei appunto non è fragile ma è una donna forte è convinta che Dennis dovrà risarcirla per i danni morali e materiali nonché psicologici che lei ha fatto perché lui ha voluto demolirla sia come donna che come youtuber che come moglie e quant'altro e poi si fa una domanda una domanda particolare cioè perché proprio ora che lei ha il processo con l'ex che è sotto minaccia reale di morte diciamo le sta accadendo anche questo fatto di Dennis e di Marcolino e si risponde che hanno scelto questo momento perché lei è più vulnerabile e che magari nella loro mente sperano che lei possa fare un gesto irreparabile dice che questo gesto lei non lo farà mai perché ha una famiglia che lei ama e che la ama comunque si devono vergognare perché appunto in questo momento lei ha questo processo queste minacce con un ex al quale comunque è venuta a mancare la sua compagna io non capisco perché tira dentro questa questione e comunque dice alla compagna di Giuseppe che riposi in pace però che lei le condoglianze non le dà perché sarebbero condoglianze ipocrite afferma ancora una volta che Dennis Marco e Faith praticamente sono sui scarti che lei vogliono praticamente sperano che lei impazzisca che faccia qualcosa sotto crollo nervoso io non capisco perché dovrebbe farlo visto che pochi attimi prima aveva detto che lei è una donna forte comunque dice che Dennis si sente abbandonato da lei praticamente e quindi fa questo perché vuole che si parli di lui però lei ormai non lo riprenderà più come amico neanche se torna strisciando ad un certo punto Luciana le fa vedere il fotomontaggio quello con la stola bianca con dietro scritto pensati querelata e lei dice che le dispiace rivolgendosi a Faith se lei ha avuto cioè se Faith ha avuto un un'infanzia di di merda con un padre di merda sui testuali parole e io ricordo a Chiara che anche lei non è che ha avuto tutta questa infanzia splendida visto che anche il padre era abbastanza assente che la madre è una persona per sua stessa ammissione anaffettiva che preferiva il figlio maschio quindi insomma come infanzie si possono abbastanza equiparare quindi se Faith ha avuto un'infanzia di merda carissima Chiara tu non è che l'hai avuta di diamante ecco diciamo così e poi dice che no non le dispiace se Faith ha avuto un'infanzia una brutta infanzia insomma poi dice che non capisce perché è così frustrata pur avendo un figlio un marito io questa storia di mettere i parenti figli mariti cugini compagni consanguinei eccetera io sinceramente non l'ho mai capita ma tant'è a un certo a un certo punto lei dice che mai scelta fu più saggia se non quella di sifuniare Faith canarino e topolino e dice voi siete i miei scarti e io sono Chiara d'Alessandro fate nel frattempo nella sua live diciamo faceva notare che Chiara tentava di manipolare Dennis e Marco per quanto riguarda le denunce nel senso prima facendo capire che comunque spregavano soltanto soldi perché lei non avrebbe più parlato di loro poi minacciandoli in qualche modo nel senso lei ha comunque qualcosa che può usare ancora contro soprattutto contro Dennis perché ha registrato queste cose nel computer quindi potrebbe fare qualcosa sia per quanto riguarda il penale che il civile poi ancora dicendo che comunque lei potrebbe fare qualche gesto in consulto quindi cercando di farli sentire in colpa per non farle andare avanti con le denunce ma a quanto ha detto Faith è del tutto inutile perché pare che queste denunce siano partite quindi questa live se la poteva tranquillamente risparmiare cosa penso io di questa live allora penso che lei effettivamente non dico che abbia paura però insomma in qualche modo la tocca ecco questo fatto che l'abbiano querelato e ho denunciato insomma la tocca profondamente perché altrimenti insomma mi fa sorridere questo fatto che lei parta da un io non ho paura a poi arrivi a potrei fare un gesto inconsulto non lo faccio perché io sono una donna forte però in questo momento sono fragile perché è un momento particolare per me cioè praticamente non sa neanche lei se è fragile se è debole se in questo momento si sente vulnerabile se però è una donna che non si piega davanti a nulla insomma è un po' un un po' ingarbugliata questa matassa voglio dire il fatto che lei dica spesso e volentieri che tutte le persone che sono che non sono dalla sua parte siano sui scarti fa semplicemente ridere e fa davvero vedere non dico la pochezza di questa donna però quanto sia egocentrica come minimo comunque questo era più o meno quello che è accaduto quanto meno nella live di Chiara inutile dire che fate ha ribattuto punto su punto e niente io vi ho rubato già abbastanza tempo quindi vi saluto come al solito se questo audio vi è intrattenuto lasciatevi un like se volete iscrivetevi al canale se volete lasciatemi i commenti ciao a tutti un abbraccio e ancora una buona domenica ciao